Dio mandò un giorno l'angelo Gabriele a Nazareth da una giovane donna fidanzata con un faregname di nome Giuseppe. La donna si chiamava Maria. L'angelo entrò in casa e le disse, ti saluto Maria, il Signore è con te, egli ti ha colmata di grazia. Maria fu molto impressionata da queste parole e si domandava che significato aveva quel saluto. Ma l'angelo le disse, non avere paura Maria, tu hai trovato grazia presso Dio. Avrai un figlio, lo darai alla luce e gli metterai nome Gesù. Egli sarà grande e Dio lo chiamerà figlio suo, facendolo regnare per sempre sul popolo di Israele. Allora Maria disse, eccomi, sono la serva del Signore, Dio faccia con me come tu hai detto. E l'angelo partì da lei.